Vedo una corsa sfrenata verso cariche politiche romane nel Veneto, per cui io mi dissocio. Come al solito non usa mezzi termini Giancarlo Gentilini per commentare quello che sta succedendo nella Lega del Veneto. Lo sceliffo si dissocia da quello che definisce un triste teatrino tutto imperniato sul potere anziché sul servizio al partito. Sono dispiaciuto perché la Lega è sempre stata quella che ha portato avanti l'amore verso la città e verso i cittadini e molto meno la politica. Considerazioni mentre si fa sempre più aspra la corsa alla segreteria regionale con attacchi incrociati che confermano una netta spaccatura tra frazioni incarnate da volti come Roberto Marcato, Alberto Stefani e Franco Manzato. Non dibattito costruttivo, sottolinea Gentilini, ma polemiche e non solo, che rischiano di screditare la Lega agli occhi degli stessi elettori. E a chi suggerisce un candidato super partes come Gianpaolo Gobbo, Gentilini risponde secco. Paolo Gobbo ha fatto la sua storia come Gentilini. Io ho bisogno di gente nuova che abbracci il credo della Lega Nord, Dio, patria e famiglia, ordine, disciplina, rispetto e legge, prima gli altri e dopo gli altri.